Ciao da Apsim! Dopo Claudio Marchisio, il nulla. La Juventus ad oggi, 2021, non ha più prodotto alcun giocatore cresciuto nel vivaio per la prima squadra. Abbiamo tanti giovani interessanti, alcuni in under 19, alcuni in under 23, quindi in Serie C, altri in giro in prestito tra Serie B ed altre squadre, qualcuno anche in Serie A, come per esempio Dragosin, ma al momento nessuno è ancora sbocciato e ha ancora sfondato come giocatore della prima squadra, fatto e finito. Non sto parlando puramente e semplicemente di giocatori che formalmente hanno la qualifica di CTP, cioè Club Trained Players, ovvero cresciuti per almeno tre anni, registrati, tesserati per almeno tre anni o anche 36 mesi pure non consecutivi, tolti periodi in prestito tra la stagione in cui hanno compiuto 15 anni e la stagione in cui ne hanno compiute 21. Questi sono i parametri UEFA, questi sono i requisiti, così si definisce un CTP. Perché se considerassi il CTP pure semplice dovrei considerare Pinsoio e anche Rugani, che però è CTP solo ai fini Serie A, perché essendo stato mandato in prestito dopo il suo acquisto da parte della Juve nel 2015, non ha maturato i requisiti ai fini UEFA. Se parliamo di Pinsoio e Rugani non ci capiamo, il punto non è quello, perché lì siamo in un ambito formalistico anche un po' casuale. D'altra parte Pinsoio, che CTP è, ha fatto il giro dei prestiti per anni, per un decennio, e poi è rientrato alla Juve per fare il terzo portiere. Volendo ci sarebbe anche Spinazzola, che ha fatto un percorso simile a quello di Pinsoio, però è un discorso diverso, perché su Spinazzola è stata fatta una scelta di mercato differente, ma volendo sarebbe stato un giocatore validissimo come CTP per la prima squadra. E ce lo saremmo tenuto e coccolato proprio come un giocatore comunque cresciuto nella Juve, sebbene anche in questo caso solo ai fini Serie A e non ai fini UEFA, in quanto appunto fu mandato pure lui in prestito tante volte. Ma prima di entrare nei dettagli e vedere chi sono effettivamente questi giocatori e anche come si colloca la Juve nelle classifiche europee secondo CS Football Observatory e il suo weekly post 3-5-3 uscito di recente, dobbiamo parlare di Matthias Souley. La notizia che ha scaldato i nostri cuori è che Matthias Souley, giocatore argentino, che è arrivato alla Juventus a gennaio 2020 per l'Under 17, preso a zero dal Vellets Sarsfield, poi transitato immediatamente nell'Under 19, è stato convocato da Scaloni nella nazionale maggiore dell'Argentina. Quindi un ragazzo che è nato il 15 aprile 2003, quindi quest'anno ha compiuto 18 anni, che è già stato convocato dalla nazionale maggiore. La cosa è stata un po' celebrata come un successo da parte degli ambienti Juve e anche da parte di qualche giornalista, ma non per essere il solito critica tutto, io mi pongo in una posizione diversa rispetto a questa notizia. Secondo me non è una vittoria della Juventus, è una grave sconfitta. Perché Matthias Souley avrebbe potuto far parte della prima squadra quest'anno, stare lì al posto dei Kuluseschi, dei Bernardeschi o insieme a loro, per fare gruppo ma per giocare in Serie A e in Champions League, e invece si è scelto dopo un anno, in realtà sei mesi, con la chiusura dei campionati giovanili per la pandemia, in Under 19 di farlo transitare in Under 23 in Serie C. Dove non ha ancora fatto gol, ha comunque giocato bene perché è un giocatore fortissimo e io vi parlo di Souley da febbraio 2021, quindi un anno dopo che era arrivato, ma dopo poche settimane che aveva cominciato a giocare per l'Under 19, quindi già dalla primissima partita che gli ho visto fare, mi sono innamorato di lui calcisticamente, l'ho apprezzato come grande giocatore e ve l'ho detto tante volte, per me è sottodimensionato, in Serie C non deve giocare, perché ci sono giocatori che non devono fare la trafila della Serie C, non tutti devono farla, anzi per alcuni è deleteria, per lui secondo me è deleteria, come deleteria è la Serie B per Fagioli, Fagioli invece di andare in prestito alla Cremonese dove sta facendo faville, avrebbe dovuto essere mantenuto in Serie A nella Juventus, avrebbe dovuto giocare, essere semplicemente in prima squadra, e quindi non abbiamo un talento riconosciuto internazionalmente da un commissario tecnico che lo comuca insieme a Dybala, insieme anche a Messi, Dybala partirà insieme a Matias da Torino, Messi partirà da Parigi, ma poi si ritroveranno lì e noi non siamo in grado di vederlo, e poi siamo anche contenti di questa cosa, contenti di cosa? Di aver sprecato un talento in Serie C e adesso è anche conclamato, ufficiale e palese? Cioè voglio dire, non è che la Juventus ha scoperto e lanciato sull'E, evidentemente è talmente forte che se ne sono accorti tutti e adesso è stato convocato, ma non certo per le prestazioni che può aver fatto in Serie C, perché un diciottenne che gioca in Serie C non merita la nazionale solo per il fatto di giocare in Serie C e avere 18 anni, non si è mai vista una cosa simile. I talenti precoci, le convocazioni precoci in nazionale maggiore che registriamo in Europa e fuori dall'Europa riguardano giocatori che giocano in prima linea, in prima lega, in primo livello, non in terzo livello, Serie C è di terzo livello. E sull'E è stato convocato mezza volta, tra l'altro, da Lega, mi pare, nella trasferta col Napoli, ma ovviamente non ha visto il campo dopo aver fatto un po' le amichevoli estive, che furono più delle sgambate anche in assenza di tanti giocatori che erano ancora fuori per le vacanze post-nazionale. Quindi parliamo veramente di un talento sprecato, ma lo stesso discorso vale anche per, ripeto, fagioli. Poi, da parte, possiamo aggiungere che, ecco, intanto sull'E sarà, se resterà sarà CTP, al momento non lo è, ma sarà CTP, lo è già invece Hans Nicolussi Gaviglia, che ieri, proprio con l'Under 23, è rientrato dopo un anno di calvario, anno scorso rottura del crociato con interessamento del Menisco quando era al Parma, stagione finita. Poi, quando aveva praticamente recuperato rottura definitiva del Menisco, altri mesi di calvario, finalmente è ritornato e ha fatto gol, anche se l'Under 23 ha perso, quindi due ottime notizie relativi ai giovani in una stessa giornata, ma anche Hans Nicolussi Gaviglia l'anno scorso non sarebbe stato da mandare in prestito al Parma a non giocare, a mio avviso. Al di là che si è rotto il crociato, quindi non sapremo mai come sarebbe andata la sua stagione e quanto sarebbe stata vantaggiosa o meno, ma resta la mia convinzione e a conti fatti, è una Juve, ripeto, che dopo Marchisio ancora non è riuscita a produrre veramente un talento giovanile. Abbiamo tanti giovani interessanti, ma finora nessuno ha sfondato ed anzi, li stiamo mandando in giro invece di valorizzarli davvero, invece di tenerli in prima squadra e di farli giocare, perché magari alcuni di loro sarebbero già pronti, sarebbero già pronti a fare la prima squadra, al posto di certi titolari, lo diciamo tante volte, ma cosa può dare in meno di Rabiot, per esempio, un Filippo Ranocchi ha mandato in prestito al Vicenza, piuttosto che lo stesso Fagioli anche se sono ruoli diversi, per fare un semplice esempio, ma anche Fabio Miretti, che ha fatto ottima stagione l'anno scorso, l'Under 19, e quest'anno è stato passato in Under 23, sempre più convincente, anche di lui vi avevo parlato mesi fa, perché basta guardarli giocare, uno se ne rende conto quando sono forti e sono validi, poi ci sarebbero magari talenti anche di altre società, ma intanto noi abbiamo i nostri che non facciamo esplodere. E quindi veniamo ai dati, perché una cosa che mi aveva incuriosito qualche giorno fa, poi è capitata questa coincidenza, avevo già preparato il video, e poi è successo che su lei è stato convocato da Scoloni con l'Argentina, e che Hans Nicolosi Caviglia ha fatto gol, nel mentre altri assist di Fagioli, gol assist di Fagioli con la Cremonese, ma ripeto, avevo già annotato questo weekly post 353 di CS Football Observatory, lascio il link in descrizione per andarlo a consultare in versione integrale, che parla di quanti giocatori le varie squadre dei 31 campionati europei, e poi in parte anche dei 5 top campionati, hanno prodotto e mandato appunto a giocare, cioè quanti giocatori di queste squadre dei 31 campionati attualmente giocano nelle squadre, in altre squadre dei 31 campionati, i giocatori CTP, quanti CTP, quindi quanti prodotti del vivaio, le singole squadre sono riuscite a far affermare a certi livelli, questo è il discorso, e anche che età media hanno, cioè da quanto tempo una squadra continua a produrre talenti, oppure da quanto tempo ha smesso, qual è stato l'ultimo, quali sono stati gli ultimi, qual è stata l'ultima ondata, l'ultima sfornata di talenti prodotta per il calcio europeo che conta, questo è il discorso, e quindi vediamo che la Juventus è in una posizione imbarazzante, perché nelle prime posizioni delle squadre dei 31 campionati europei la Juve neanche c'è, è presente invece in posizione molto ribassata nella classifica delle migliori squadre tra i top 5 campionati, con parametri che sono diversi, ripeto, se volete approfondire c'è lo studio, è in inglese, ma è tutto molto chiaro, prova a spiegarvelo, che cosa ha fatto CS Football Observatory, è andata a prendere innanzitutto quelli che sono i CTP delle varie squadre che giocano nei 31 campionati oppure nei 5 campionati, quindi i CTP dei 31 campionati nei 31 campionati e i CTP dei 5 campionati migliori nei 5 campionati migliori, capite? Cioè i CTP delle squadre dei 5 top campionati che giocano a loro volta in qualunque altra squadra dei top 5 campionati, stesso discorso dei 31 campionati europei che giocano in qualunque altra squadra o nella stessa che li ha prodotti come talenti nei 31 campionati europei, quindi sono livelli di distribuzione e classifiche diverse e separate con valori diversi, i valori quali sono? Numero di giocatori, un certo parametro di importanza che viene decretato anche da un coefficiente di importanza del livello in cui giocano, cioè se la Juve ha un CTP in Serie C appunto non viene preso in considerazione perché non fa parte dei 31 campionati ma se al contrario dovesse giocare in ere divisi avrebbe un coefficiente più basso rispetto ad un giocatore prodotto che gioca in Premier League perché è un coefficiente diverso. Inoltre numero medio di partite giocate da questi giovani da questi giovani non è detto da questi CTP nei vari campionati tutto relativo alla scorsa stagione quindi alla stagione 20-21 e poi anche l'età media di questi giocatori quindi una serie di parametri che possiamo interpretare come vogliamo quello che però ci interessa secondo me è il numero di giocatori prodotti e quindi vediamo che nell'ecosistema 31 campionati al primo posto c'è l'Ajax che ne ha prodotti attualmente attualmente giocano 81 poi Shakhtar Donetsk 75 Sporting Lisbona 70 Dinamo Kiev 70 Dinamo Zagabria 70 per citare le prime 5 come vedete non ce n'è una dei top 5 campionati sono tutte squadre marginali rispetto ai top 5 campionati ma hanno giocatori che per numero e di importanza giocano ad alti livelli infatti l'Ajax con i suoi 81 ha accumulato un ponteggio di 102,3 come valore di questi giocatori e delle prestazioni che hanno svolto nel senso che questi 81 giocatori dell'Ajax non è che giocano sparsi a livelli bassi giocano anche a livelli alti pur non essendo l'Ajax tra i top 5 stesso discorso lo Sporting Lisbona che ha il secondo posto per coefficiente con 91,8 poi c'è il Real Madrid con 81,4 che ha meno giocatori ma appunto maggiore importanza poi ancora la Dinamo Zagabria 77,9 e il Benfica con 76,4 chiudendo invece sui top 5 campionati quindi escludendo le altre leghe le altre 26 leghe nei top 5 campionati la squadra che all'anno scorso ha visto in campo nei top 5 campionati il maggior numero di propri CTP e il Real Madrid con 42 ma già avercene 81 42 di CTP che giocano è una cosa pazzesca Barcellona 42 Lione 32 Rennes e PSG 30 quindi tre squadre francesi e due spagnole al vertice della classifica dei top 5 che in termini di coefficiente vede invece il Real Madrid ancora al primo posto con 66,4 Barcellona 61,9 PSG 54 Chelsea 44,9 e Lione 44,2 come vi dicevo per il livello di importanza e la Juventus e la Serie A la Juventus ne ha attualmente alla scorsa stagione sempre 8 ma ripeto solo nei top 5 campionati quindi non si sa che posizione abbia la Juve tenendo conto del contesto dei 31 campionati totali perché è talmente giù in classifica che non si vede ma è molto in basso è tra le ultime infatti se non sbaglio è quinta ultima tra le squadre di Serie A nei top 5 campionati con soli 8 giocatori CTP che attualmente giocano nei top 5 campionati con un valore tra l'altro di 7,3 17,6 partite giocate in media la scorsa stagione quindi neanche giocano neanche giocano questi 8 giocatori 0,58 come livello di coefficiente medio delle competizioni in cui questi giocatori giocano e 26,1 anni d'età quindi sono anche CTP ormai transitati ormai passati non sono più attuali non sono giovani freschi e infatti sono andato un po' a vedere tramite Transfermarkt chi potrebbero essere anche a come hanno giocato la scorsa stagione e dovrebbero essere immobile Ken perché comunque l'anno scorso era al Paris Saint-Germain quindi viene tenuto in considerazione Spinazzola che forse però ripeto è fuori per il discorso CTP UEFA Serie A Audero Lirola Rogerio Forse La Padula e Moncini che erano al Benevento l'anno scorso Romagna e Criscito quindi sono 8, 9, 10 a seconda poi dei parametri diciamo che sono una decina ma che giocatori sono? Cioè qualcuno di questi oggi a parte Ken che è stato ricomprato io ormai non lo considero più perché è stato venduto quindi non è più un giocatore che puoi dire è venuto dalla primavera a parte Ken che è stato venduto e Spinazzola che purtroppo è stato venduto forse solo Immobile potrebbe essere un attaccante titolare nella Juventus giocatore titolare nella Juventus per il resto sono tutti giocatori che con tutto il rispetto non possono essere titolari nella Juve quindi sono giovani che cioè sono CTP all'epoca giovani sono CTP che quando sono stati prodotti come giovani del Vivaio non hanno dato garanzie di poter diventare ecco di poter sfondare in prima squadra per questo dico dopo Marchisio il vuoto con un contesto Serie A che vede la Roma al primo posto con 19 giocatori nei top 5 campionati quindi questa classifica top 5 Roma 19 Milan 17 Fiorentina 16 Inter 15 Genoa 13 Empoli 12 Juventus 8 Torino 7 Verona 6 come la Lazio e anche il Cagliari 6 giocatori alla scorsa stagione attivi nei top 5 campionati questo che cosa vuol dire? che siamo indietro siamo indietro perché per vedere aumentare questo dato la prossima stagione non basta questa non basta questa perché solo Dragosin solo Dragosin è CTP e sta in Serie A gli altri sono tutti fuori dai top 5 campionati anche dai 31 principali campionati europei dei 31 paesi capite cosa voglio dire? quindi siamo proprio indietro se vogliamo invertire la tendenza forse abbiamo iniziato forse abbiamo iniziato perché ci sono tanti giovani interessanti ripeto tra Under 19 Under 23 e Prestiti ma devono giocare facciamoli sfondare in prima squadra ma non perché dobbiamo avere la classifica migliore su CS Football Observatory ma perché lo vedete le altre squadre a che livello sono? lasciamo stare l'Ajax squadre con un approccio più giovanile guardiamo la classifica dei top 5 campionati Real Barcellona Lione Paris Saint Germain Chelsea cioè perché dobbiamo essere infinitesimali rispetto ai livelli di queste società perché dobbiamo continuare a comprare giocatori invece di costruirli in casa che sarebbe un grosso vantaggio vuoi anche solo per il mercato in uscita se non vuoi poi puntare su questi giocatori sul campo che sarebbe la cosa ideale da fare per invertire la tendenza siamo già in ritardo cioè gli altri ci stanno già mangiando tempo spazio terreno e futuro quindi spero che dalla prossima stagione visto che ormai questa è andata a livello di scelte 3 4 5 giocatori cresciuti nel vivaio e vi posso fare i nomi Sule Dragosin De Winter Miretti Hans Nicolussi Cavia Fagioli vedete quanti ce ne sono potenzialmente vadano in prima squadra in prima squadra a giocare oppure vengano venduti definitivamente e probabilmente sbocceranno perché alcuni di questi sono veramente forti ma di primo livello non a fare l'Under 23 in serie C non a fare l'Under 23 in serie C o il prestito secco in serie B o il prestito secco in serie A questa è la speranza di avere nuovi marchisio non come ruolo ma come percorso nella Juventus cresciuti nel vivaio e sbocciati in prima squadra che hanno sfondato in prima squadra speriamo di vedere presto questa alba grazie per la vostra attenzione forse il video avrei potuto anche un po' compattarlo farlo più breve ma c'erano anche tanti dati e tante cose da dire mi perdonirete comunque per la lunghezza e fatemi sapere nei commenti come la pensate like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi per anticipazioni sulla mia programmazione giornaliera e tanto dibattedo nelle chat riservate sul mio server Discord ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti